ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di do it yourself ispirazione oggi voglio mostrarvi una ricetta davvero golosissima e andremo ad utilizzare il mio amore più grande la nutella e delle golosissime fragole allora come prima cosa ci servono naturalmente le nostre ciambelline con la copertura che più vi piace delle fragole e ovviamente l'ingrediente principale è la nutella come prima cosa andiamo a tagliare a metà le nostre ciambelline proprio come se stessimo tagliando una fetta di pane ecco qui andiamo a tagliarle tutte tagliando circa la metà precisa anche se alcune sono potrebbero essere un pochino fini una volta tagliate tutte andiamo a prendere la nostra amatissima nutella e aiutandoci con il coltello ecco qui andiamo a spalmare la nutella sulla parte inferiore della nostra ciambella ecco qui una volta spalmata tutta la nutella andiamo a metterci sopra le nostre fragole ecco qui una volta messe anche le fragole andiamo a richiudere le nostre ciambelle stile panino insomma ok ed ecco qui pronto un golosissimo snack direi non proprio estivo visto che c'è anche la nutella ma chi non direbbe di no a delle fragole con nutella naturalmente spero tantissimo che questa mini ricetta vi sia piaciuta se vi è piaciuta regalatemi un mi piace non dimenticatevi di andare a vedere tutte le altre nostre ricette mi raccomando se avete dubbio perplessità scrivetemi nei commenti sarò felicissima di rispondervi non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale per rimanere sempre sintonizzati con noi con nuovi video ogni settimana ci vediamo sempre qui e alla prossima ciao